Ciao, sono Stefano Chiaro, il ricordatore della Chiaro famiglia. E oggi parlo di uno dei vini più rappresentativi della mia famiglia è il Barbera Dasti Nizza Singolvigna Raccoon 2007. Nizza è una nuova operazione, è nato dal Vintage 2000 e rappresentano il terroir, il terroir del Barbera. Perché il terroir è il terroir, 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 la migliora esposizione per la vini e anche il terroir è possibile producere le nizza solo il terroir. Vintage. Ma torniamo a La Coutte. La Coutte è una vina magica nella regione del sud di Asti, nella regione Castelnuovo. È sviluppato 40 anni fa e per ottenere questo tipo di qualità abbiamo fatto un grande sacrificio nella vina. Abbiamo tagliato circa 40-50% con il terroir, in agosto e dopo con il grassed antinio. Quindi abbiamo trovato in ogni vina solo 5-6 vina che arrivano nel giorno di settembre in perfetta maturazione, fermentati per due settimane in un grande occhio e anche per ottenere il terroir. Abbiamo comprato il vino senza filtrazione, senza calificazione e dopo aver aspettato per altri 18 mesi nella vina e dopo aver avuto la prima volta. Ma torniamoci al vino. Il colore è molto profondo, il rosso rosso rosso. Nel naso è incredibile, questo tipo di sensazione, questo rosso rosso, come il rosso rosso, una sensazione eterna, ma anche qualche dolore come il tobacco, anche un pochino di dolore e anche il caffè, che è molto particolare per la vina. Nel cuore è un vino molto caldo, un vino molto caldo, ma anche un vino molto valutato, un vino molto ruolo. È incredibile che questo tipo di vino mantiene una sensazione davvero crisp e fresca e si permette di fare diversi combinazioni con il vino. Barbera è un vino per il vino, ma soprattutto il top è quando hai un vino come ravioli, o un vino rosso rosso, o un vino rosso, o un vino medio-aged. La mia famiglia è molto orgogliosa di produrre questo tipo di vino di top quality, perché mio padre era un pioniere del vino che credeva in questa varietà durante i 60 anni, ma solo, dalla mia opinione, nei ultimi 15 anni siamo arrivati a produrre un top Barbera, Leclercourt che è davvero uno dei più importanti vini rosso rosso nel mondo. E anche nella migliore liste del mondo. Applausi il vino e grazie molto per l'attenzione.